Vuoi sviluppare forza interiore e vuoi che gli altri ti vedano più forte? Allora devi eliminare dal tuo linguaggio alcune parole che ti rendono debole, sia interiormente che all'esterno. E devi inserire alcune altre parole, che sono le parole di potere, che possono da un lato creare forza interiore e dall'altro farti vedere e farti sembrare molto più forte. In questo video parlerò di quattro argomenti. Il primo argomento è perché il linguaggio, soprattutto il linguaggio interiore, sta trasformando la tua vita nel bene ma anche nel male e può completamente condizionare le tue scelte, le tue convinzioni, il tuo modo di fare, il tuo modo di essere e anche il modo con cui ti percepiscono gli altri. Due, ti dirò quali sono le parole di debolezza che devi assolutamente eliminare. Tre, quali sono invece le parole di potere che devi assolutamente inserire. E quattro, qual è il passo in più che puoi fare per riprogrammare il tuo cervello e attraverso proprio il linguaggio interiore. Quindi sei pronto? Ma prima di iniziare ho da chiederti un favore. C'è uno sforzo enorme dietro questo canale e vedo che molti di voi guardate questi video ancora non iscritti al canale. Quindi a te cosa ti costa? Metti un mi piace, condividili con i tuoi amici, iscriviti al canale e io da parte mia metterò ancora più impegno per darti contenuti di vera crescita personale, quella basata su ricerche scientifiche. Ma partiamo a bomba. Primo argomento, perché il linguaggio impatta così tanto sulla nostra vita? Perché il linguaggio è lo strumento numero uno con cui noi rappresentiamo la realtà. Che significa? Ci arrivano le informazioni dalla realtà e noi li percepiamo con i nostri sensi. Ma le informazioni sono troppe. Quindi cosa facciamo? Ne prendiamo una piccola parte della realtà e per rappresentarla utilizziamo il linguaggio. Sia quello esteriore, quello che ci serve per comunicare con gli altri, sia quello interiore, quindi quella vocina con cui noi parliamo noi stessi. E quel linguaggio incide sulle nostre convinzioni, sul nostro codice di condotta, su cose importanti davvero per noi. A volte può addirittura bloccarci, a volte può aprirci la mente in una maniera straordinaria, in base alla qualità del linguaggio. Infatti, la qualità della nostra vita è proporzionale alla qualità del linguaggio con cui ci parliamo. E c'è una notizia favolosa. Il linguaggio può essere trasformato. Partiamo a bomba col vedere il secondo argomento. Quali sono le parole che ti rendono debole? Lo inserisci su questo foglio, le troverai in descrizione del canale YouTube. Le parole che ti rendono debole? Non posso. Ovviamente implica la mancanza di capacità. Proverò a farlo. Proverò. Suggerisce incertezza e mancanza di impegno. Spero. Non dipende da me. Io posso sperare che esca il sole. Ma se qualcosa è relativa a un mio risultato, non posso sperare di ottenerlo. Forse. È una parola di debolezza. Dovrei. Implica obbligo senza convinzione. Quindi io dovrei farlo. Ma non sono interessato a farlo. Devo. Il devo è una parola di debolezza e di forza. In base a come lo utilizzi. Se utilizzi sempre la parola devo, 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 stai aumentando i livelli di pressione addosso e non è produttivo. Invece se in maniera mirata e puntuale utilizzi il devo solo in alcuni momenti, allora quel devo diventa produttivo. Perché ti crea una forte determinazione. O come piace chiamarla a me, una feroce determinazione. Mai. Spesso usato in contesti negativi che limitano le possibilità. E a me non piacciono gli assoluti. Mai. Sempre. Ogni volta. Attenzione. È fondamentale invece essere puntuali nel linguaggio. Perché dire non accadrà mai è una generalizzazione. Mi capitano sempre le stesse cose è una generalizzazione. Concentrati unicamente su quello che è importante per te in quel momento. Non sono bravo a. Nessuno nasce bravo a. Tutti devono sviluppare le abilità. Non riesco. Stessa cosa. Ti toglie potere. È difficile. Come disse una volta un allenatore. Tutto è difficile prima di diventare facile. È colpa di. Attenzione. Mai incolpare gli altri di cose che riguardano te stesso. Magari gli altri hanno le loro responsabilità per altre situazioni. Ma per i tuoi risultati è fondamentale prendersi la responsabilità a cinque livelli. Ma lo vedremo alla fine. Queste sono le parole che creano debolezza. Andiamo a vedere le parole che invece creano potere. Posso. Posso farlo. Farò. O meglio. Lo faccio. Un comando netto. Credo. È bellissima. Indica fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Certamente. Dimostra sicurezza in decisione. Invece di dire forse. Forse riesco. Forse... Certamente. Anche perché indica mi impegno con tutto me stesso. Scelgo di. Perché scegliere è importante. Io aggiungerei anche un'altra parola. Decido di. Scegliere è scegliere tra varie opzioni. Però siamo sempre noi protagonisti. Decido. Le creo io le opzioni. Voglio. Mostro qual è la mia volontà. Mi impegno a. Questa è una parola potentissima. Un insieme di parole potentissime. Mi impegno con tutto me stesso per ottenere quel risultato. Sono bravo a. È fondamentale conoscere i propri punti di forza perché possono alzare completamente la nostra capacità di realizzare le cose perché migliorano le nostre convinzioni profonde. Riesco. Quindi do certezza. È una sfida. Invece di dire un problema è difficile non ci uscirò mai. È una sfida per me. E alla fine prendersi la responsabilità a cinque livelli che questo è un modello di pensiero proprio di vinci con la mente. Prendersi la responsabilità delle proprie azioni dei propri comportamenti dei propri risultati ovviamente quello che concerne la propria responsabilità delle proprie emozioni e dei propri pensieri. E sulla responsabilità emozionale voglio dirti una cosa. È sbagliato dire mi hai fatto arrabbiare! È molto meglio dire mi sono arrabbiato per quello che hai fatto. Che significa? Sono sempre io il responsabile delle mie emozioni. Sono io che ho creato l'emozione rabbia per quello che hai fatto. Te la comunico. A me non sta bene. Ma sono io il responsabile delle mie emozioni e io il protagonista delle mie emozioni. Ed ora il quarto passo. Fai un passo in più. Conoscere queste strategie aiuta? Certo ti dà una consapevolezza ma applicarle, 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 applicarle fa tutta la differenza del mondo. E quando le hai applicate tante e tante volte puoi addirittura riprogrammare il tuo cervello. Infatti la nostra mente si riprogramma continuamente ma dalle informazioni esterne. Scegli tu come programmare il tuo cervello. Scegli tu che identità avere. Scegli tu le tue convinzioni. E ricordati che nei momenti in cui tu programmi il cervello per quello che vuoi realizzare stai iniziando a plasmare il tuo destino. Infatti il passo in più vero è prendi in mano la tua vita. Da un lato risolvi i traumi del passato. Dall'altro trasforma le tue convinzioni da improduttive a produttive. Dall'altro crea la tua vera identità. Insomma plasma il tuo destino. Cosa stai aspettando? a realizzare la vita che meriti davvero. Perché io sono convinto che tu meriti felicità amore e successo. Successo personale quello che dipende da te ma per farlo devi prendere in mano davvero la tua vita. E se vuoi sapere come fare contattaci. Io ti voglio bene. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti